Se conoscete e amate il Kit Carson della grande saga di Tex Willer, quello che i Navajo chiamano capelli d'argento, beh rimarrete delusi, il vero Kit Carson non aveva niente a che fare con quel personaggio lì, era uno che era scappato di casa a 16 anni, che era diventato trapper a 20, scout a 33, soldato a 37, parlava tre lingue, l'inglese, il francese e lo spagnolo, oltre che a una decina di dialetti indiani, ma non sapeva né leggere né scrivere, era analfabeta. Nell'esercito fece carriera e finò a diventare generale, fu il primo e l'unico generale nella storia dell'esercito degli Stati Uniti d'America che non sapesse né leggere né scrivere. Dopo che nel 1837 Finile era dei trapper, perché ormai di castori vivi non ce n'erano quasi più, Carson diede una mano decisiva a Fremont, che è uno dei più grandi esploratori dell'Ovest americano e fu decisivo Carson ad aiutarlo a definire quello che poi è noto come l'Oregon Trail, la pista a nord, quella che porta dal Missouri fino su alle coste del Pacifico. Christopher Houston Carson, Keith per tutta la sua incredibile vita, non fu soltanto un uomo del West, fu in qualche modo il West stesso, l'uomo che ha creato la leggenda dell'Ouest, oltre che anche la sua geografia. Era duro e visionario, spietato e crudele, coraggioso, meschino e contraddittorio, era tutte queste cose insieme, era un uomo senza legge e senza morale. Ha soltanto 37 anni quando decide di smettere, ha già fatto tutto e in più ha incontrato una donna ricca e bellissima, Josefa Yamarillo, decide di sposarsi e di stabilirsi a Taos, New Mexico e di fare semplicemente l'agricoltore, non andrà naturalmente così, viene richiamato in servizio dall'esercito per risolvere una volta per tutte la faccenda dei Navajo. La risolve a modo suo, con quelli che pure dovrebbero essere i suoi amici. Li raduna in uno dei luoghi a loro sacri, il Canyon de Celli, bambini, donne, uomini, anziani, chiunque si opponga viene ucciso. Distrugge i loro villaggi e li incolonna in quella che è una delle pagine più nere del West americano. Li fa camminare per centinaia di miglia fino a Fort Summer, una marcia dalla quale pochi escono vivi, una marcia che a un secolo e mezzo dopo i Navajo ricordano ancora.